Non solo fiori a Floreale ad Alessandria ma anche bellezza, naturalmente ai fiori si abbina sempre la bellezza. Sicuramente sì, sono contentissimo di questa opportunità che viene data a queste ragazze questa sera anche perché questa è una manifestazione che è partita un anno fa e volevamo un contesto simile per poter poi arrivare a chiudere il primo anno e effettivamente aver avuto questa opportunità da parte nostra è veramente il massimo. Di conseguenza io sono felice per queste ragazze, purtroppo ce ne mancherà qualcuna nel senso che dovevano essere 22, faccio anche i numeri va bene tanto ne avremo solo 17 perché una addirittura ha avuto un lutto in famiglia quindi abbiamo una certa situazione, la serata purtroppo era questa non la si poteva spostare e quindi tutti alle 21 a vedere veramente chi ce la fa nel senso che la prima miss per quanto riguarda la Floreale che ha la terza edizione quindi è una bellissima cosa. Nel contesto il tempo aiuta di conseguenza speriamo che ci siano una grande affluenza di pubblico. Questa sera il numero 17 porterà fortuna? Porterà fortuna se no altrimenti magari mi metterò a sfilare anch'io di conseguenza magari facciamo 18 ma no assolutamente no ho le gambe bruttissime e quindi per queste 17 un in bocca al lupo veramente. Questa prima uscita per Sara Ghiarco, 18 anni, 9 libri. Nella numero 17 Amici carosello buonasera sono già innamorato abbiamo qua Miss Cittadella 2012 Sara ciao Sara complimenti Ciao grazie Quanti anni hai? Ho 18 anni Cosa fai nella vita? Faccio la commessa, canto e faccio la modella Allora diciamo beati gli ultimi perché saranno i primi luogo comunissimo ma ho sentito da Mauro dal rappresentatore che sei arrivata in ritardo come mai? Eh perché sono uscita dal lavoro e ho dovuto chiedere insomma di farmi uscire un po' prima una cosa e l'altra tornare a casa insomma prepararmi e quindi ho fatto un po' tardi. E quando tornerai a lavorare sbatterai la corona lì e hai visto che c'era un motivo per farlo. Sogni nel cassetto qualcosa? Cantare e fare l'avvocato. Sono due cose completamente diverse però è così. Tu pensa a cantare in tribunale è una cosa bruttissima. E tanti in bocca al lupo da Carosello TV, da tutti noi per la tua carriera. Sia la prima, sia la seconda che la terza. Speriamo. Se ci vuoi salutare Carosello TV. Grazie a tutti, ciao. Sara Ghiardo con la numero, era la numero 17, Miss Orchidea, Miss Belezza e Cittadella, eccola qua. Sì, perché c'è un po' tardi. Sì, perché c'è un po' tardi. Grazie a tutti.